Buonasera, ben ritrovati. In questo viaggio che si sta per concludere tra una settimana ci saranno gli ultimi atti con il ballottaggio del voto per le amministrative. Stasera abbiamo un'edizione speciale perché abbiamo i due comuni che potevano andare al voto, quindi abbiamo Poggi Bonzi e Colle Vallelza. Partiamo con Poggi Bonzi presentando le due candidate che sono arrivate a questa fase finale, Angela Picardi e Susanna Celli. Buonasera. Con loro affronteremo quello che è successo una settimana fa, ma soprattutto quello che potrà succedere da qui a quando si voterà. Ricordiamo che rispetto alla tornata precedente dove si è votato tra sabato e domenica a questo giro si voterà fra domenica e lunedì, quindi anche questo cambiamento potrà comportare degli effetti. E poi, come si dice sempre, al ballottaggio si riparte da zero a zero. Angela, come arriva questo ballottaggio e cosa ha fatto con questa settimana? In questa settimana abbiamo continuato l'attività che abbiamo svolto fino a domenica e quindi abbiamo continuato ad avere rapporti con i cittadini, ad avere un contatto, a cercare di capire quali sono le varie problematiche. Abbiamo preso atto di quelli che sono tutti i cambiamenti che l'amministrazione uscente ha messo in atto in questi ultimi giorni e quindi abbiamo una città asfaltata, anche se a Morse e Bocconi. Però, come dire, l'amministrazione uscente ha approfittato di questi ultimi giorni per cercare di risolvere alcune criticità. Quindi noi siamo pronti per il ballottaggio, ci stiamo impegnando e quindi continueremo ad andare avanti avendo contatti con le persone, con tutti i settori della produttività che tra l'altro ho già incontrato più volte, sia separatamente che in occasione degli incontri. E quindi rappresentare quello che è il nostro programma e quali sono i motivi per i quali è necessario un cambiamento di vista, un cambiamento di governance in appoggivonsi. Se Angela Piccardi è una civica con il sostegno del centro-destra, Susanna Cenni è da sempre una esponente del Partito Democratico. In questo caso non c'è solo il Partito Democratico a sostenerla, ma ci sono altre liste. Quindi, com'è stata la sua settimana? La mia settimana è stata una settimana di analisi dei numeri, di confronto con i nostri candidati, quelli delle liste dei partiti e la lista civica. Io credo che abbiamo fatto un buon risultato. Per pochissimi voti non siamo riusciti a chiudere la partita nel primo tempo. E stiamo continuando a fare quello che abbiamo fatto durante tutta la campagna elettorale. Stare fra la gente, ascoltare, invitare le persone a tornare a votare, perché sappiamo che è giugno, sappiamo che molte persone cominciano ad andare in vacanza. Però tornare a votare al ballottaggio è importante e quindi noi stiamo lavorando per dare questo tipo di messaggio. Quindi tornate a votare perché il voto è importante, è espressione di democrazia e soprattutto perché si sceglie fra due idee della città molto, molto diverse. Come evidenziava la candidata Cenni, la vittoria al primo turno l'è sfumata per pochi voti, si è fermata poco sotto il 49% e a tratti lungo lo spoglio è stata anche sopra il 50%. È delusa da questo risultato? No, io non ho mai pensato che ci fossero risultati scontati. Chi fa politica lo sa e soprattutto ho fatto una lunga campagna elettorale, quindi sono stata moltissimo fra le persone, ho ascoltato apprezzamenti, ho ascoltato anche criticità e quando si fa la campagna elettorale onestamente, con passione, in mezzo alle persone si mette nel conto tutto. Del resto molti comuni più o meno delle nostre dimensioni hanno più o meno fatto come noi, penso a Empoli, penso a Ponte d'Era, comuni di dimensioni ma anche di caratteristiche economiche e sociali molto simili alla nostra, si sono fermati a pochi voti. Abbiamo un voto importante che è quasi un 49%, 2700 in voti in più dei nostri avversari politici e quindi stiamo lavorando per fare un ottimo risultato al ballottaggio. C'è un dato, come sottolineava Ceni, il fatto che molti comuni della Toscana siano andati al ballottaggio sopra i 15 mila abitanti, chiaramente, dove il centro-sinistra è spesso in vantaggio ma il centro-destra non ha mollato. È un po' quello che mi ha detto lei quando l'ho intervistata una settimana, mi ha detto che il primo risultato si è già ottenuto arrivando al ballottaggio, che non è poco da cosa per un comune come Poggi-Ponzi. Il ballottaggio è stato un grande risultato, inaspettato, sicuramente nemmeno il PD si aspettava di arrivare al ballottaggio, è la prima volta che è successo in tanti anni e credo che sia il sintomo di una situazione che oramai è diventata pesante, di tutta un'espressione di un grande malcontento. La candidata del PD ha detto che una manciata di voti sono stati quelli che hanno impedito di si confermarsi al primo turno. Invece il problema è che se consideriamo i risultati elettorali, a partire anche, rimanendo senza andare troppo lontano, dal 2014 adesso, vediamo che c'è una diminuzione importante di voti a favore del PD. Quindi c'è a Poggi-Ponzi la voglia di cambiamento, la voglia di vedere facce nuove, di vedere persone diverse, quindi per cercare di cambiare la città e fare tutto quello che non è stato fatto, di recuperare tutte quelle occasioni che sono state perse e che hanno contribuito a rendere Poggi-Ponzi così com'è. Poggi-Ponzi è una città insicura, circostanza della quale finalmente si è accorta anche l'avversario. È una città in cui la gestione di tutti quanti i servizi non funziona e anche c'è voluto il ballottaggio per cercare di capire che acque ha dei problemi. Una città in cui non c'è nessun controllo sulla gestione dei servizi, in cui non c'è prospettiva, in cui non c'è sviluppo, in cui non c'è sicurezza. Nelle regole di alternanza chiaramente la prima domanda è una volta per ciascuno, quindi riparto da questi temi. Siccome lei si è fermata o comunque ha raggiunto il 30%, perché come dicevamo non è una cosa da poco, come stava dicendo lei, Su cosa farà l'Eva per cercare di recuperare questo svantaggio e riuscire a vincere? Innanzitutto ricordando agli elettori che domenica possono votare anche quelli che magari non hanno votato la volta precedente. Che votare è importante perché è un diritto, perché è un dovere, perché non si può partecipare alla gestione della cosa pubblica senza esprimere il proprio voto. È troppo semplice non esprimere il voto e magari lamentarsi. Quindi l'espressione del voto è probabilmente la massima espressione della partecipazione attiva. Quindi un invito è rivolto anche alle persone che loro malgrado non hanno votato e manifestare quali sono le ragioni perché debba essere votata la mia lista civica. Credo allo Stato che questa differenza non sia assolutamente incolmabile. Abbiamo già la giunta quasi pronta, abbiamo già individuato le persone che dovranno presiedere i vari assessori, persone, figure del territorio, altamente professionali e dotate di competenze. Il tema chiaramente di portare gli elettori al voto, lo citava anche lei prima, fa la differenza soprattutto considerando che al ballottaggio votano meno persone solitamente. Assolutamente, è un tema serio e è un tema serio, la percentuale è ancora molto alta di astensione al voto. In queste amministrative e le europee noi abbiamo registrato a livello nazionale un dato davvero molto preoccupante. Anche nei nostri territori, pur mantenendo una tradizione di partecipazione al voto più alta, abbiamo questo tipo di problema. Quindi certamente occorre invitare chi non ha votato al primo turno a farlo al secondo turno. Noi lavoreremo anche per chiedere a coloro che hanno fatto altre scelte di sostenerci in questo passaggio, perché noi abbiamo un progetto per la città e di quello abbiamo parlato durante tutta la campagna elettorale, al punto che i nostri avversari in genere sono dovuti venire sui nostri temi, perché evidentemente non avevano tante proposte innovative da mettere in campo. E oltre alle proposte noi abbiamo anche le persone, perché si parla tanto di ricambio. Se noi vinceremo, sei dei dieci consiglieri di maggioranza saranno consiglieri sotto i 35 anni. È un modo serio e anche molto concreto di agire il cambiamento. Perfetto. Ricordiamo il dato del primo turno. Al primo turno ha votato il 66% degli aventi diritto, rispetto a cinque anni fa c'è una diminuzione del 5%. Quindi diciamo si va verso quella tendenza che vede c'è sempre meno gente partecipare al voto in una regione che comunque al voto ci va più delle altre regioni, per caso Scana storicamente ci va più delle altre regioni. Quindi questo vi può confortare. Diciamo che questa era la prima parte relativa a Poggio Monzi. Ci vediamo tra pochi minuti andando verso il finale di questa puntata. Bentornati con la seconda e ultima parte di In Politica dedicata al ballottaggio di Poggio Monzi. Siamo in compagnia delle candidate Angela Picardi e Susanna Cenni. E quindi riparto da Cenni che è la candidata del centro-sinistra. Quanto peserà Claudio Lucì su questo ballottaggio? Ricordiamo che Claudio Lucì è arrivato terza, ha preso il 13%. In settimana ha fatto una conferenza dicendo che non dava indicazione e che gli elettori si devono sentire liberi di votare chi preferivano. Noi siamo consapevoli, io sono molto consapevole, che noi abbiamo svolto una campagna elettorale con tre soggetti che in qualche modo operavano, si proponevano, facevano la loro campagna elettorale in gran parte nell'area del centro-sinistra. Questa cosa un po' ci ha penalizzato. Ci ha rappresentato anche elementi di riflessione su tante questioni. Noi ci siamo confrontati con Claudio. Devo dire che ci siamo confrontati con grande rispetto perché Claudio Lucì, come l'altro candidato, hanno sempre detto fin dall'inizio che non si sarebbero apparentati. Però ci siamo confrontati sui temi perché anche durante la campagna elettorale, quando fondamentalmente emergono gli elementi di divisione più che quelli che ci accomunano, abbiamo rilevato una comunanza su tanti temi. Penso alla partecipazione, penso ad altre questioni, penso al valore della sanità pubblica e universalistica, ad altri temi. Noi ripartiamo da lì parlando agli elettori e sapendo che queste risposte non si possono trovare a destra. Lo facciamo con serenità, con tranquillità, ma soprattutto parlando agli elettori e parlando di contenuti ancora una volta. Di là a Cenni c'è anche un quarto candidato, giustamente, che è Loreano Cuccia, ha preso oltre il 7%, è il candidato di fondazione comunista e chiaramente si colla in una precisa area politica pur, quando l'abbiamo qui intervistato nel dibattito fra tutti i candidati, non riconoscendoci nella linea del PD, questo è chiaro. Angela, la questione Lucia, quanto può incidere? Lucia è un candidato civico appoggiato al Movimento 5 Stelle, diciamo che è più lontano dal vostro mondo. La lontananza non è tanto la lontananza dal nostro mondo, vorrei capire quant'è la vicinanza rispetto al mondo del PD. Diciamo che se queste persone fossero così votate, in qualche modo seguissero quelli che sono le ideologie del PD, forse avrebbero fatto un'altra scelta. Quindi diciamo che loro si sono... Cioè, loro si allucini che Loreano che Cucci hanno dichiarato di non volersi imparentare con nessuno, non hanno dato indicazioni di voto, sono rimasti coerenti fin dall'inizio a quello che è stato il motivo per cui soprattutto Lucia ha costituito questa lista civica, a quello che è il loro programma. Programma che, come ha detto la Susanna, dice è stato copiato. Noi non l'abbiamo copiato, siccome non si può parlare di copiatura. E' venuta fuori anche un po' una vignetta. Il problema è che tutti conosciamo perfettamente la realtà e quindi sappiamo quali sono gli elementi punti dolenti, punti critici e li abbiamo affrontati. Ognuno li ha affrontati in maniera diversa, da una prospettiva diversa e ha cercato di dare delle risposte diverse. Probabilmente qualche forza politica in maniera più concreta e qualche altra forse un pochino meno. Per quel che mi riguarda ritengo di aver prospettato sempre delle situazioni concrete ma ideologiche lasciando le idee a Platone e non alla gestione e al governo della nostra città. Susanna ha detto che certe cose non potranno essere attuate mai dalla destra. Siamo tornati un'altra volta al discorso della privatizzazione della sanità e questa è una notizia che non è assolutamente vera, come dire, verrebbe detta come fake news. Mi pare che pur io non rappresentando il governo nazionale, questo l'ho già detto all'incontro scorso, lo ribadisco e quant'altro, ma insomma non mi pare che si stia andando verso una sanità privata. Mai come in questi ultimi anni sono stati fatti investimenti sulla sanità, mai avuti così tanti soldi. Nessun governo né di sinistra né Conte aveva fatto un investimento sulla sanità. Ho sempre affermato e lo ribadisco, la Toscana ha grossi problemi nella sanità, perché c'è un debito enorme derivato dall'ASL Nord-Ovest che non è riuscito a sanare nonostante le cospicue somme che il governo negli anni ha messo a disposizione. C'è una gestione un pochino così, come dire, la Lega, ma non c'è. Poi l'ultima cosa, la sanità è regionale, ricordiamocelo. Quindi se in Toscana abbiamo un certo tipo di sanità, noi dobbiamo ringraziare il PD, che anche a livello ragionale sono anni che gestisce la nostra regione. Poggi Monti è stata tirata in ballo oggi e sui giornali, per una vicenda che lega una consigliera candidata a Fratelli d'Italia, per cui sarebbero stati chiesti i voti dall'ex comandante dei Carabinieri Turini, che era a Prato e ora si trova all'arresto domiciliario, insomma la vicenda è abbastanza nota. La disturba questa vicenda? Ma non mi disturba affatto, assolutamente. Proprio lo posso dire nella più assoluta tranquillità, non mi disturba perché innanzitutto perché la persona interessata con un comunicato si è allontanata dalla sua funzione, quindi volevo dire ha chiarito qual è la sua posizione. Sono intervenuta anch'io con un comunicato, sinceramente sono fatti che non hanno assolutamente niente a che vedere con quello che è il nostro programma. Mi verrebbe da dire così, per caso, fatti che risalirebbero, per come è scritto sui giornali, perché chiaramente noi, diversamente da altri, non hanno l'accesso agli atti, quindi fatti che risalirebbero al 20 maggio sono stati pubblicati soltanto a distanza di una settimana dal ballottaggio. Comunque io sono serena, credo che questa vicenda non inciderà assolutamente su quello che è il modo di pensare degli elettori foggibonsesi, ma saranno le indagini del caso e chiaramente la signora Simona Codevilla poi adotterà tutte le misure precauzionali che sicuramente si renderanno necessarie perché essere messa sul giornale con nome, nome e cognome non sempre succede, sicuramente non è a tutela di quelli che sono i diritti della persona, però queste sono questioni personali. Da un mio punto di vista, così come candidata a sindaco della lista civica appoggiata dalla coalizione centrodestra centrodestra e in prossimità del ballottaggio io non mi sento assolutamente in condizioni di dover temere niente da questa faccenda. Gli elettori lo sapranno valutare quello che è successo e se non sbaglio lo hanno anche percepito e capito perfettamente. Mi ha sottolineato che la persona a questione non è indagata. Appunto tra l'altro non è nemmeno indagata. No, no, per chi ci segue non è indagata. La ringrazio per la precisazione. No, no, figuriamoci. Susanna, che ne pensi? Allora intanto voglio dire una cosa perché la nostra candidata continua a dire che lei è una candidata civica e poi ci sono delle forze politiche che la sostengono, però quel 30% che lei ha ricevuto se non ci fosse stato Fratelli d'Italia non sarebbe esistito perché c'è stato un risultato molto magro della sua lista civica. Cosa penso di questa vicenda? Io penso che queste cose vadano maneggiate sempre con grande cura perché è una pubblicazione di un'intercettazione perché c'è una persona che non è interessata a nessun tipo di comunicazione di reato e quindi io credo che chi usa queste cose strumentalmente diventa, diciamo, fa un uso che rischia di essere veramente sciacallaggio allo stato puro. Certo, quello che emerge da settimane su questa vicenda e quindi non solo mi riferisco alla vicenda di questi giorni uscita sul giornale non è bello, diciamo, emerge qualcosa di diciamo, di moralmente discutibile nel comportamento di una figura pubblica. Io mi auguro, sono convinta, che questa candidata saprà dimostrare tutto quello che ha dichiarato. Certo, diciamo, non emerge una bella immagine, questo sì, però sinceramente non credo che siano questi temi su cui discutere politicamente. Certo, chiaramente, però era una nota che andava data perché la vicenda è emersa sui giornali e quindi collegandosi a Poggi Monzi non si poteva fare a meno di menzionarla. Quale sarà il punto di svolta di questa settimana? Il suo punto di svolta, chiaramente. Il punto di svolta è l'incontrare le persone. Io anche stasera avrò incontri nei quartieri, noi continuiamo a lavorare su questo e continueremo a raccontare il più possibile quali sono le differenze fra noi e gli altri. Io non ho mai detto che il nostro programma è stato copiato, magari fosse stato copiato, saremmo anche felici, avremo tanti punti in comune. Ho detto che molto spesso noi abbiamo visto la nostra avversaria venire sui temi nostri, quasi come se non ci fossero delle proposte. Quindi noi abbiamo una visione della città, noi abbiamo una visione del futuro e abbiamo anche persone capaci di rappresentarlo, questo futuro, che stavano dentro alle nostre liste, quelle politiche e quelle civiche e che staranno nel Consiglio Comunale. Cioè non raccontiamo un'idea di futuro e di cambiamento teorico, lo stiamo interpretando con le persone. Lei ha detto tante di cose che non vanno, ma è il gioco delle parti, chiaramente Poggi Monzi, perché sta amministrata dal centro-sinistra e quindi è normale che chi rappresenta la parte opposta dica quello. Un progetto cruciale per lei che è nel suo programma, che porterà per Poggi Monzi, perché quello poi si invota in base ai progetti, anche se poi la politica purtroppo ormai è sempre più personalizzata. Allora innanzitutto creare le condizioni per uno sviluppo, uno sviluppo che riguarda tutti quanti i settori, il settore produttivo, il turismo, ho puntato l'attenzione su una maggiore attenzione sulle problematiche della cittadinanza, sulla gestione dei servizi, sulle acque. Hanno asfaltato via Senese, non hanno finito di asfaltare via Senese nei giorni scorsi, stamattina ci sono intervenuti perché c'è un problema. Dieci giorni fa non avevano finito di asfaltare via Le Marconi che poi dopo è comparso un cartello in cui diceva che dovevano fare delle condutture, c'è la mano destra, non sa quel che fa la sinistra. Noi non abbiamo una visione, ma che dire, noi l'abbiamo avuta la visione, noi abbiamo sempre parlato di quelli che erano i problemi, non abbiamo mai pensato ad una città ideale. Noi pensiamo ad una Foggibonzi che deve recuperare l'importanza che in tutti questi anni ha perso e quindi rimettere al centro il turismo, riportare il cuore della città nel centro storico, riportare, parlare di sicurezza, adesso si accorgono dall'altra parte che abbiamo un problema di sicurezza, ma guarda un po', sono settimane che tutte le forze, comprese Loriano, Eccucci e compreso anche Lucì, ha posto l'accento su questo fatto e invece dall'altra parte si diceva ma io non ho questa visione così, non mi sembra una città sicura. Benissimo, perfetto, sette giorni di prognosi a un povero malcapitato poliziotto, comunque uno delle forze dell'ordine, che ha cercato di mettere ordine, di tutelare l'incolumità della cittadinanza. È un problema di sicurezza dato dalla scarsa illuminazione, da un'illuminazione che molto probabilmente dovrà essere sostituita di sana pianta, perché non è stata fatta a regola d'arte, ne vogliamo parlare, abbiamo dei luoghi abbandonati a se stessi, un turismo che non c'è, se questa vi sembra ideologia o affermazioni così che non portano a niente, sarà di certo così, io non credo e sicuramente gli elettori l'hanno capito, l'hanno capito e si sono espressi in quel modo. Forse è vero, io avrò poco, non sto a spiegare i motivi del mio risultato che può essere considerato così non rilevante rispetto a quello che ha riportato Fort Fraccelli d'Italia, però forse sommiamo un po' tutto e vediamo che tipo di esploat ha fatto il Partito Democratico in queste elezioni. Credo che non ci sia la testimonianza di un esploat, credo ci sia invece la conferma, la testimonianza di una continua discesa e diminuzione di voti, pur in una situazione in cui fino adesso la fa da mangiore. Questo credo sia un po' la fotografia di oggi della Toscana perché sennò quasi tutte le città non sarebbero state governate al centro-destra. Però le chiedo, chi reddita Poggi Bonzi oggi reddita anche un quadro industriale che è quasi unico nella provincia senese perché onestamente quello li va riconosciuti al fatto che comunque l'industria Poggi Bonzi, le piccole e medie imprese sono un'eccellenza. Le piccole e medie imprese sono un'eccellenza, è vero, ma lo potrebbero ancora essere di più se venissero approvati i piani di sviluppo, se fosse concessa la possibilità di estendersi, di aumentare la produzione. Noi abbiamo delle eccellenze, è vero, con sede legale magari a Poggi Bonzi, ma con sede operativa in altri comuni dove offrono la possibilità di allargarsi, di approvare i piani industriali, quindi di aumentare la produttività, di assumere dipendenti, quindi di crescere e di svilupparsi sotto questo aspetto. Sono consapevole, abbiamo tantissimi, settori produttivi immensi sotto tutti gli aspetti, nella moda, nell'industria farmaceutica, nell'industria aerospaziale, però purtroppo molti non sono nel nostro territorio, sono nei territori confinanti. Non è colpa del centro-destra. Come ho chiesto alla candidata Picardi, un progetto centrale per lei, se dovesse vincere? Sicuramente la buona crescita, la buona crescita significa sostenere il sistema economico, la qualità del lavoro. Noi abbiamo un'estensione con nuove imprese che stanno arrivando anche in questi mesi nella zona industriale di Fosci. Quindi le imprese stanno arrivando e come si stanno arrivando. Il nostro tema è come sostenere questo sistema dentro ai cambiamenti e anche come farlo crescere. Noi abbiamo proposto di lavorare a un patto per lo sviluppo che coinvolga il sistema delle imprese, i lavoratori e la loro rappresentanza e il mondo della ricerca. Perché noi dobbiamo attrezzarci da un lato per rispondere a un problema che le imprese hanno, che è quello del reperimento della mano d'opera. Dall'altro dobbiamo aiutare le imprese a stare dentro un sistema economico in continuo cambiamento. Quindi innovazione, capacità di stare dentro alla transizione economica, di far crescere esperienze come quelle delle comunità energetiche. Quindi la buona economia è uno dei temi centrali, assieme a quello della cura della città. Noi, io sono convinta, noi siamo convinti che occorra implementare le risorse per la manutenzione, per la cura e anche per la partecipazione nella nostra città. Concludo con un punto sulla sicurezza, perché questo è il racconto che la destra fa ovunque in questi ballottaggi. Quello che è accaduto giovedì scorso è molto grave, ma quello che è accaduto è che una persona che non doveva trovarsi lì, perché è una persona con precedenti penali, ha aggredito le forze dell'ordine, che io anche stasera voglio ringraziare per il grandissimo lavoro che fanno. Noi avremo la necessità anche di riportare, per esempio, una postazione di polizia dentro al centro storico. È uno dei temi che noi da sempre abbiamo inserito nel nostro programma elettorale. Per finire, un elemento di discontinuità con l'amministrazione Buzzi-Salli è comunque plasmato, Poggi Bonzi, perché è un'amministrazione che dura dieci anni per forza plasma un territorio. Sì, l'ha plasmata anche con tanti investimenti che io credo rappresentino diciamo uno dei lasciti più importanti della precedente amministrazione. Io credo che i prossimi anni dovranno caratterizzarsi soprattutto per due elementi. Il primo elemento riguarda la partecipazione civica. Il mondo intero, in modo particolare tante città europee stanno lavorando su strumenti anche innovativi di partecipazione dal basso. Noi su questo tema vogliamo lavorare con grande serietà sia con le consulte di partecipazione che riguardano i quartieri più periferici della città o i borghi del nostro comune sia settori nonché prevedere forme di partecipazione anche settoriale e anche temporanea perché se lavoriamo a un progetto di rilancio della città deve esserci uno strumento che garantisce la partecipazione finché quel progetto non è concluso. Uno di questi esempi potrebbe essere il lavoro che dovrà essere fatto per esempio in Viale Garibaldi dove io credo siano già arrivate tante sollecitazioni interessanti. L'altro tema a mio parere centrale è quello della manutenzione e della cura. Noi infatti abbiamo proposto l'istituzione di un assessorato alla partecipazione e alla cura perché il concetto di cura riguarda sicuramente la manutenzione urbana ma riguarda anche molte altre cose. la relazione con le persone con il sistema economico con la salute delle persone con l'erogazione di servizi sociali e anche con la capacità del comune di essere pienamente disponibile di fronte alle richieste e all'interlocuzione con i cittadini. Lei com'è il comune ideale immaginato da Angelo Cardi? Comune ideale che immagino è un comune in cui veramente l'amministrazione la pubblica amministrazione non sia altro rispetto ai cittadini un comune in cui chi è e chi fa il sindaco deve ascoltare deve mettersi a disposizione degli altri dove sinceramente non ci siano interessi particolari di pochi da attuselare dove tutto funziona dove comunque ci sia un controllo per il bene della collettività dove vengano date delle risposte dove le PEC siano riscontrate dove ci sia qualcuno che risponde al telefono dove ci sia la disponibilità da parte di chi è dei vari dipendenti preposti ai singoli uffici ad ascoltare a dare risposte a trovare la soluzione un'amministrazione che non dia un no a prescindere un'amministrazione che veramente si è impegnata nel sociale ma non soltanto a parole ma anche con i fatti perché l'esperienza diretta dimostra che c'è tanto 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 da fare perché ci sono delle situazioni di abbandono a Poggi Bonzi abbiamo dei senza tette abbiamo persone che sono famiglie no famiglie vabbè abitazioni dove vivono 10-12 persone quindi senza che siano rispettati i criteri dell'abitabilità e quindi questa danno di qualsiasi forma di igiene personale ambientale e dove praticamente non c'è nemmeno il riconoscimento della dignità della persona umana un comune dove ci si possa stare bene un comune che possa essere vissuto come amico e non come altro da sé bene io ringrazio sia Angela Piccardi che Susanna Cenni il nostro viaggio con Poggi Bonzi finisce qua chiaramente come ho fatto in altre occasioni rinnovo l'appello a votare perché la democrazia si esprime solo così quindi approfittando anche del lunedì che è un giorno lavorativo vi prego andate a votare votate chi credete sia meglio per il futuro di Poggi Bonzi ma recatevi alle corne grazie ancora e buona serata grazie buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti